Eccoci qua con la dottoressa Giacomini, la Federica Giacomini, stiamo parlando sole sì, sole no, sole no ne abbiamo parlato tanto, abbiamo parlato anche soprattutto di melanomi e del rischio di prendere il sole e mi piacerebbe che lo ripetessi come un messaggio da dare ai nostri ascoltatori, qual è il modo migliore per prendere il sole e non farsi male? Prendere il sole gradualmente, quindi iniziare a desporsi le prime volte, mezz'ora, un'ora al giorno, poi progressivamente si può aumentare, sempre con la protezione solare, tendenzialmente evitando le ore centrali della giornata, utilizzare i cappelli e gli occhiali da sole. Perfetto, questo farà contento anche gli oculisti che tutte le volte vengono qua. Ci sono però altre patologie che possono migliorare, abbiamo parlato nella fine della seconda parte della psoriasi che migliora d'estate, diciamo così, e anche lì hai dato questi consigli di esposizione al sole, ma per esempio la dermatite seborroica, l'acne, la dermatite atopica possono avere un miglioramento? Sì, certo. Allora, la dermatite atopica è una forma sostanzialmente di eczema, tant'è che adesso si tende a chiamarla eczema costituzionale, che può colpire i bambini e anche gli adulti e migliora moltissimo con l'esposizione al sole, sempre un po' con lo stesso principio dell'apsoriasi, poiché il sole ha lì un effetto antinfiammatorio. La dermatite seborroica è una patologia sicuramente meno grave, ma molto molto comune, che colpisce spesso il cuoio capelluto, i padiglioni auricolari, i solchi nasogenieni. è, diciamo, varia da forme molto lievi, come la forfora, a forme molto più gravi. Anche per la dermatite seborroica spesso si osserva un miglioramento in estate, proprio legato all'esposizione solare. Per la dermatite seborroica addirittura è sufficiente veramente fare alcune attività quotidiane all'aperto, le persone che ne soffrono già notano che verso il mese di maggio-giugno iniziano a migliorare. E poi anche l'acne. Dunque, l'acne migliora con il sole se preso moderatamente, tant'è che in genere è consigliabile comunque ai pazienti acneici applicare sempre le protezioni solari, non solo per il rischio di trasformazione neoplastica, ma proprio anche per evitare di avere poi un effetto di peggioramento dell'acne. Se hai preso troppo fa male. Fa male. Ci sono degli aspetti anche predisponenti. Io sto pensando all'acne giovanile che sono stato tormentato durante l'adolescenza. Mi davano delle cose terribili da mettermi addosso. Poi probabilmente anche un'alimentazione più sana, insomma, perché si mangiava hamburger, patate, eccetera, forse uno stile di vita più sano possono aiutare? Sì, sì. Allora, è chiaro che l'acne adolescenziale trova il suo substrato in una predisposizione ereditaria e in una predisposizione ormonale. L'alimentazione ha una sua importanza, soprattutto si è visto che i latticini possono peggiorare l'acne. Ecco, quindi il discorso dei latticini tra l'altro torna per tutta una serie di questioni sul maschio in relazione alla predisposizione al tumore alla prostata, insomma. Quindi, in genere, dal tuo punto di vista, l'acne giovanile colpisce più le donne o i maschi? Allora, a parità di età di solito è peggiore negli uomini, proprio per una questione ormonale. Sono molto d'accordo con te perché in effetti è più un problema, anche femminile, ma più raro da questo punto di vista. Nelle famiglie spesso si vede che il fratello ce l'ha un pochino più grave. In questi casi c'è una terapia, perché io ricordo delle creme terribili che mi davano, scure anche, proprio si vedevano. Ci sono tante terapie. che dipende dal tipo di acne e dalla gravità, ovviamente. Ci sono dei trattamenti ad uso locale, creme, detergenti, gel, ce ne sono tantissimi. Ovviamente bisogna sceglierli adeguati per quel tipo di acne e per quel tipo di paziente. Ci sono anche delle terapie sistemiche che si possono utilizzare nell'acne. Direi che adesso, se gestita bene, l'acne si può curare bene. In effetti non vedo più, ecco, queste... Io ricordo nelle scuole secondarie superiori eravamo in molti ad avere questo problema, chi più chi meno. Adesso ne vedo meno. Probabilmente l'efficacia delle terapie è migliorata molto. Sì, sì, anche la sensibilità delle famiglie e dei pazienti a questa patologia. Una volta probabilmente veniva considerata normale per gli adolescenti. Senti, abbiamo parlato di patologie della pelle. Non possiamo ignorare alcuni aspetti anche di patologie virali, no? E quindi una delle cose che fa più paura a noi anziani è il cosiddetto fuoco di Sant'Antonio. L'herpes zoster. L'herpes zoster, chiamato comunemente così, ecco, insomma. Da questo punto di vista ci sono sia rimedi che non sono medici, diciamo così, ma andiamo ai rimedi medici. Dal punto di vista dei farmaci antivirali, si è fatto da questa progressione? Beh, ce ne sono tanti già da diversi anni, funzionano molto bene. L'importante è iniziarli ai primi sintomi, quindi tanto più precoce è la diagnosi. Quando ci sono piccoli segni, farsi vedere. Sì, i segni, la sintomatologia, per cui a volte la sintomatologia dolorosa può precedere addirittura la comparsa delle manifestazioni cutanee e quindi quando è monolaterale, tendenzialmente lungo il decorso di un nervo, bisogna alzare le orecchie e pensare che potrebbe trattarsi di herpes zoster. Poi chiaramente ci sono forme lievi e forme molto più importanti. È correlato allo stato di salute, perché questa espressione a volte è così macroscopica, insomma, no? E giustamente tu hai sottolineato attenti prima, perché quando si manifesta la patologia è già avanzata, no? Sì, dopo bisogna iniziare subito le terapie, eventualmente anche dei supplementi di vitamina B per aiutare il nervo che viene infiammato da questa riattivazione del virus herpes zoster. Di conseguenza può lasciare quel dolore posterpetico che può rimanere dei mesi, degli anni, che può essere anche molto invalidante. È per questo anche che la terapia va iniziata precocemente. E quindi anche per bocca si possono alterare? Sì, sì, si utilizzano, nell'herpes zoster si utilizzano degli antivirali per bocca e delle vitamine tendenzialmente. Mentre invece l'herpes, diciamo un pochino meno, è quello lì in simplex, ecco. Per quello lì sono sempre gli stessi rimedi oppure? Si valuta, nel senso che gli antivirali possono essere utilizzati ad uso sistemico, dipende dalla gravità, da quante recidive ci sono in un anno, dipende dalla localizzazione, perché noi immaginiamo il simplex sempre a livello del labbro, in realtà può venire anche da altre parti. Per quanto riguarda invece sempre le dermatiti da contatto, adesso ci sono dei mercatori di cosmetici, ci sono dei negozi specifici che vendono solo cosmetici, ma ci sono anche negozi che vendono detersivi, ci sono negozi che vendono tutta una serie di giocattoli, diciamo, per esempio. Ecco, quanto dobbiamo stare attenti? Perché non sempre la composizione, e non è solo il nickel tra l'altro, quello... Dobbiamo stare attentissimi, ma a volte è difficile, anche perché spesso i prodotti cosmetici non hanno l'obbligo di riportare esattamente tutto ciò che contengono dentro. E quindi non sempre vengono fatte tutte le analisi approfondite, e poi i limiti di tolleranza... Sono molto individuali. Sono molto individuali, tra l'altro sono tarati sull'adulto, e questi cosmetici noi li usiamo anche nel bambino. Senti, negli ultimi secondi la domanda è guardiamo dopodomani, insomma, no? Dal punto di vista delle... abbiamo parlato di melanomi, abbiamo parlato di esposizioni, di rischi dell'esposizione del sole. Ci sono delle nuove cure in arrivo per questi tumori della pelle? C'è qualcosa che ci può... Perché già hai detto una cosa tranquillizzante, che non è più così pericoloso come una volta, insomma, no? È pericoloso come una volta, ma spesso viene riconosciuto più precocemente. La prevenzione, quindi. Come terapie ce ne sono di nuove. Sono terapie che tendenzialmente sono recentissime e vengono effettuate su quei pazienti che hanno delle forme di melanoma in stadio avanzato. Bene. Senti, noi ti ringraziamo anche dalla disponibilità a spaziare su argomenti di vario genere, non solo, non abbiamo parlato solo di sole, sei stata molto disponibile e se ti capita ancora di fare queste belle iniziative soli sì, soli no, ci informi perché attraverso i nostri organi di stampa possiamo pubblicizzarle perché quando l'informazione viene da voi professionisti è un'informazione corretta e non da persone che non sono specializzate. Quindi grazie e alla prossima trasmissione. Grazie a voi. A te Stefano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.